Possiamo fare la verifica, eventualmente potenziamo la presenza di Cassonetti in particolare per la differenziata, perché credo capito l'azione che ci sono. Sì, la signora chiedeva esattamente questo, visto che è già la seconda volta che chiama. Diamo spazio a questa segnalazione. C'è un'altra telefonata in linea. Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Pronto? Mi sento, è benissimo. Assolutamente, prego. Desideravo parlare col Presidente, perché come la signora in via Davide Lopez ha detto che si possono mettere i Cassonetti per la differenziata, però via Davide Lopez con angolo via Brigata Regginio, i Cassonetti stanno al centro strada, dobbiamo aspettare prima qualche incidente stradale perché per chi viene da via Brigata Regginio e deve girarci via Davide Lopez, se viene qualche pazzo che ce ne sono tanti. Si trova il Cassonetto davanti mentre è svolta. L'abbiamo detto ai vigili, l'abbiamo detto al comandante dei vigili urbani, mio marito ha telefonato diverse volte. Insomma, Presidente, come abbiamo risolto questo problema? Punto in derogazione. Grazie mille per il suo intervento. La signora fa la controparte. Allora, è quello che dicevo prima, a volte che c'è la presenza dei Cassonetti, quindi anche per dare altro di questa cosa, purtroppo è quello che dicevo, sono tutti posizionati agli angoli o in posizioni abbastanza pericolose. Le rispostano, Presidente, diciamolo chiaramente. Le rispostano. Perché sono Cassonetti, sono Cassonetti. Allora, quelli della differenziata hanno le ruote, quindi una volta svuotati è una sciocchezza. Però ho visto spostare anche le campagne di vetro, perché anche le campagne di vetro, una volta svuotati, sono leggerissime da spostare. Li spostano, Presidente, per recuperare posti auto, per evitare... Per recuperare posti auto... Che in zone, diciamo, come in quartiere Libertà... Che in zone, particolarmente demograficamente a elevata densità, c'è il problema del posto auto. Questa è tutta la questione, perché noi non abbiamo alcun interesse a metterli agli angoli e lasciare agli angoli. E allora, Presidente, per risolvere il problema di Via Lopez si fa una verifica e si riposizionano No, no, lo riposizioniamo. Eventualmente chiederò, come abbiamo fatto a Via Ravana, sin alti punti, di procedere alla segnaletica orizzontale e verticale. Adesso vediamo. Così, insomma, è più difficile spostarli. Esatto. Segnalando a terra, chiaramente, con le strisce gialle dove devono stare i cassonetti, si spera che più difficilmente verranno spostati. C'è un'altra telefonata in linea. Pronto? È pronto, buonasera. Potrei fare una domanda, Presidente? Ci mancherebbe, siamo qui apposta. Sì, Presidente, io chiamo da Via Scandenberg, dove ci sono degli alberi dove non sono curati a misura e c'è la presenza di blatter. Io stamattina ho chiamato l'AMU di servizi che mi ha detto di chiamare l'AMU per una disinfestazione. Non so più cosa fare, chi chiamare. Non è la prima volta che ci segnalano questa situazione. Infatti, ho parlato con il dottore Olivieri l'altra volta. Esatto, allora ricordavo bene. E quindi siamo disperati perché mettiamo i panni ad asciugare e ritiriamo con le blatter all'interno. Quindi non so più cosa fare. Grazie, grazie mille, signora, per il suo intervento. No, non interveniamo su Via Scandenberg, ovvio che la manutenzione del vede non spetta a noi. Quindi noi facciamo tutta la disinfestazione e la deratizzazione. È ovvio che invito tutti i condomini a fare la disinfestazione correttamente, secondo quanto è prescritto dall'ordinanza, perché se no il nostro intervento è inutile. Perché le blatte, una volta che noi interveniamo sul suolo pubblico, operativamente, spiego in termini semplicistici, apriamo il tombino, spariamo il veleno, così in modo tale da bloccare, chiudiamo il tombino e lo sigilliamo con il nostro adesivo. Se non è stata fatta disinfestazione nelle condotte condominali, sicuramente, quasi certamente, voi avete le blatte in casa. Ma a prescindere dal nostro intervento. Perché, lo ricordiamo, con un'ordinanza sono i condomini che devono così attrezzarsi per fare la disinfestazione in casa, tra l'altro con dei prodotti anche specifici che voi consigliate. Comunque, certamente, il Presidente, insomma, è il caso di politolare questa situazione, la signora più volte l'ha segnalata. Intanto la ringraziamo per la costanza, speriamo, insomma, che serva. Abbiamo un altro telespettatore in linea. Pronto? 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 Sì, ci siamo. Buonasera. Senda, vorrei chiedere, come mai Via Respighi, che è una bellissima strada, viene spazzata una volta a settimana? Zona? Il Presidente di San Giolamo, giusto? Che fa una passeggiata per Via Respighi. Signora, che zona? Che quartiere? San Giolamo. San Giolamo, quella che è dopo la Pineta San Francesco. Benissimo. Eh, signora, ma io ci passo ogni giorno da là. Ah, benissimo. E le dico questa cosa. Quando passo la mattina presto, perché mi capirà di passare la mattina presto, la trovo pulita. Quando passa alle 1 e mezza, diciamo, prima da la Pineta, ma anche trovo a tutte le isole ecologiche, dove sono ubicati i cassonetti, da materiali di risulta e di attività di impresa. Sì, vabbè, poi li chiamo incivili. No, no, li trovo di tutti, però, le dico subito, non credo una volta a settimana, io mi informo, perché la frequenza di quello spazzamento... No, 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 non metto in dubbio. Faccio una verifica, faccio una verifica in concreto su questo punto e poi daremo una risposta in concreto. La pulizia di questi rifiuti è vero, viene fatta a spesso. No, no, sto parlando dello spazzamento, farò la verifica in concreto, perché, da quello che ricordo io, la frequenza è prevista a giorni alterni sul punto, però, comunque, signora, verifichiamo, è mortale da, diciamo, da constatare, eventualmente, se ci sono stati dei disguidi, anche da spiegare, però inviteremo di... Siamo noi che siamo incivili. Perfetto, signora, grazie, grazie mille per il suo intervento. Invito, naturalmente, tutti i cittadini alla sintesi, anche se mi rendo conto che, chiaramente, quando si prende la linea si ha voglia anche di esporre le situazioni nella loro complessità. Però, Presidente, dobbiamo far vedere le foto, altrimenti sembra che non diamo le risposte. Quindi prego la regia di mandare in onda le fotografie degli interventi che sono stati fatti. Questo è il circolo bario, quello che avevamo detto prima, in cui avevamo chiesto l'intervento, dovrebbe esserci un'altra foto, anche panoramica, sul mare. Perché qui ce l'ha stato segnalato, ma non è stato saltato. Sì, questa l'hanno saltato, questo è Iapigia. Di Apeucezia. Sì, sì, sulla corsa. Poi dovrebbe starci... Questo è il giardino che avevano detto al San Paolo. Via Ricchioni. Via Ricchioni. La signora lamentava partire la scuola. Sì, 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 l'intervento, questo è alle spalle della Prefettura Città Vecchia. L'intervento, avevano segnalato delle erbacce, siamo intervenuti. Avevano segnalato che dopo che sono stati rimossi i banni chimici per la manifestazione che ha ospitato il Presidente Berlusconi, non era stato più pulito. Quindi, insomma, queste immagini... Sì, questi sono tutti gli interventi. Questa è la zona del corso di Uttore Emanuele. Sempre adiacente alla stradina segnalata. che è di fronte al Palazzo dell'Economia, quindi dove interveniamo quotidianamente, non vi faccio... non vi dico cosa troviamo la mattina. Beh, anche perché è zona, insomma, della Movida. Della Movida, non vi dico cosa troviamo la mattina. Per cui è anche chiaro che sia... Troviamo... ogni giorno è una manutenzione straordinaria. Questa è Piazza Prefettura. Sempre la zona che ci avevano indicato come... doveva dedicare l'attenzione. C'era anche la fotografia, credo, a Verasuglio. Ci avevano chiesto di intervenire per la pulizia di una pensilina dell'AMTA. Siamo intervenuti anche lì per pulire nei limiti delle nostre competenze. Dunque, Presidente, si è appena conclusa una o due giorni di discussione di conferenza programmatica, la terza conferenza programmatica, in vista dell'approvazione del piano regionale per i rifiuti. Un piano che in qualche modo dovrebbe rivoluzionare la gestione e la governance dei rifiuti. Si creano gli Aro, che sono... Ecco, la regia ci manda la foto della pensilina. Gli ambiti di raccolta ottimali. E il comune di Bari, in quanto capoluogo, farà Aro a sé stante. Saranno 39 che raggrupperanno tutte le centinaia di comuni pugliesi. Che cosa cambia in breve con questo piano dei rifiuti per Bari? Per essere un argomento che... Un argomento vastissimo di rendo conto. Per dedicare parecchio tempo bisogna dedicare. Però la cosa fondamentale è che è un atto importantissimo, quello che sarà deliberato dal Consiglio regionale, spero, prima delle ferie estive, perché con l'approvazione del piano regionale di rifiuti si avvierà quella politica che tenderà a chiudere, con la cui finalità è chiudere il ciclo dei rifiuti. Questo comporterà un'agevolazione, un aiuto per aumentare le percentuali di raccolta differenziate perché nell'impianto delle regioni dei rifiuti ci sta tutta l'impiantistica necessaria per il trattamento dei rifiuti della raccolta differenziata, che porterà, noi ci auguriamo, per quanto riguarda Bari, perché noi abbiamo nell'ambito del piano regionale dei rifiuti due impianti, porterà anche dei benefici economici ai cittadini di Paese una volta realizzati questi impianti. L'assessore all'ambiente regionale Lorenzo Nicastro ha preso questo impegno, ovvero di fare pressing, quindi per far passare il piano in commissione, e poi dunque il Consiglio regionale prima delle ferie stile, speriamo che si faccia. Noi stiamo già lavorando sull'impianto di gestione aerobica e del trattamento della frazione organica che ci consentirà, una volta realizzato, di estendere su tutto il territorio cittadino la raccolta della frazione organica, quindi con un aumento immediato, in misura molto sensibile e molto rilevante, della percentuale della raccolta differenziata. Siamo in chiusura, salutiamo e ringraziamo il Presidente Gianfranco Grandagliano per essere stato ancora una volta con noi, tornerà a trovarci tra due settimane, vedremo di rispondere a un po' delle questioni poste. Grazie Presidente. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie a voi per averci seguito e restate con noi su Telebari, l'appuntamento con l'SOS Telebari torna sempre il prossimo martedì, sempre alle 15.30, sempre in onda e in diretta sulla nostra emittente. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.